Oggi all'Aquila si è aperto davanti al giudice del Tribunale dei Minori il processo con rito abbreviato per i due minori accusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani lo scorso 23 giugno nel parco Baden-Powell a Pescara. Udienza finalizzata soltanto a conferire l'incarico della perizia psichiatrica a due specialisti e per questo molto veloce. La procura minorile inizialmente aveva chiesto il giudizio immediato ma gli avvocati dei due imputati, uno figlio di un'avvocatessa e l'altro di un carabiniere, hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato che prevede di base lo sconto di un terzo della pena. Secondo l'indagine il primo aveva un credito di 300 euro con la vittima e per primo lo ha colpito a morte e la scelta del rito era stata condizionata a una perizia psichiatrica sull'imputato principale. I professionisti incaricati per la perizia sono i professori Stefano Ferracuti e Giovanni Camerini. Dovranno rispondere a determinati quesiti, se l'imputato ad esempio era in grado di intendere e di volere, sulla sua eventuale pericolosità sociale, se si è in grado di partecipare al processo, c'è un termine per decidere e poi si tornerà a un'aula e potrà partire il processo vero e proprio. Sulla responsabilità degli imputati pochi dubbi, uno dei ragazzi, il figlio del carabiniere, in realtà ha confessato e c'è anche un testimone, figlio di un altro carabiniere che ha raccontato tutto al padre, testimone che ha raccontato pure dell'accanimento poi sul corpo della vittima e di come la serata si è proseguita. La consulenza di parte sarà depositata con la perizia, ha spiegato l'avvocato Massimo Galanzo, presente questa mattina, mentre l'avvocato della nonna di Thomas, Giacomo Marganella, ha preferito, prima di entrare, di non rilasciare dichiarazioni. Oggi è fissata la prima udienza del giudizio abbreviato ed è finalizzata la nomina dei periti e il conferimento dei quesiti ai periti nominati dal giudice per l'udienza preliminare. Sarà un accertamento tecnico, l'oggetto è una perizia psichiatrica, finalizzata a verificare se il mio assistito fosse capace di intendere di volere al momento del fatto, se è capace di stare in giudizio e quant'altro. Siete stati voi a chiedere il rito abbreviato? Sì, siamo stati noi, la chiesta alla difesa e abbiamo subordinato questa richiesta all'espedamento di questa perizia.